ciao a tutti carissimi ritrovati nel canale allora oggi saluto tutti naturalmente ma in particolare saluto vincenza messina ciao vincenza e mi scuso per ieri che non ho potuto portare il video di buon compleanno perché vi devo dire che ieri è stato il compleanno di vincenza ma purtroppo la lina sapete dove abito che abito al mare e non mi stava possibile acquistare i biglietti comunque io spero di recuperare oggi e ti rinnovo ancora gli auguri di buon compleanno perché tu li avevo fatti tramite messaggio come si dice la ti avevo scritto comunque gli auguri ieri e spero che tu l'hai letto intanto ti auguro ancora un buon compleanno anche se è stato ieri ma penso che te li posso fare anche oggi comunque il video oggi è dedicato a te allora buona visione a vincenza e buona visione a tutti e ti faccio gli auguri con aria gold col nuovo bigliettino ok vediamo quello che ci dice allora sono della serie 0 44 45 e 43 ecco allora 43 44 45 sono consecutivi ok di serie bene allora bastano la nostra grattata incominciamo dal 43 ecco qua allora aggiungiamo allora bastano la nostra grattata con il biglietto 43 allora numeri vincente abbiamo 37 34 42 45 e 40 ok prima numero abbiamo un 11 niente poi abbiamo 43 e 32 niente poi abbiamo un 38 niente di fatto per 2 abbiamo scusate ancora un po' di tosse allora 22 che non c'è e per 2 ancora 14 niente di fatto abbiamo 12 niente 29 non ce l'abbiamo per 2 29 non c'è e per 2 30 niente abbiamo il 40 abbiamo 41 niente 23 non ce l'abbiamo 17 non c'è 19 neanche e 33 niente primo biglietto è andato carissima vincenza va bene abbiamo due altri vediamo un po' passiamo passiamo al numero 44 ok allora numeri vincente 20 14 32 42 e 43 bene primo numero 44 come il biglietto però non ce l'abbiamo come numero abbiamo 21 abbiamo 21 34 e 19 niente segue 17 non c'è e 37 stava su quell'altro biglietto non c'è per 2 abbiamo 24 che non abbiamo abbiamo 28 abbiamo 28 non c'è 35 neanche 14 si ah no l'ho già scoperto scusate e cara vincenza comunque 10 euro l'abbiamo preso bene continuiamo 23 non c'è e 11 neanche per 2 18 niente 15 niente ultimo numero 45 no sono 10 euro bene comunque abbiamo abbiamo recuperato pure l'altro biglietto bene così mettiamolo da parte passiamo all'ultimo biglietto per vincenza ok ok questo qui è il numero 45 eccolo qua vediamo qua allora i gatti ci hanno dato il numero 44 ci hanno dato 10 euro ci hanno visto bene vediamo un po' questo che ci dice numeri vincenti 36 46 14 48 ok 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 9, niente, 13, niente, abbiamo 14, par 2, 40, niente di fatto, e poi abbiamo 21, niente, abbiamo 11, par 2, niente, 20, niente, 29, non c'è, 30, neanche, par 2, abbiamo 24, e no, questo è perdente, questo biglietto. Vabbè, comunque, caro Vincenzo, abbiamo ripreso 10 euro, e sono contenta di poterti offrire una vincitina, anche se modesta, e comunque abbiamo fatto un po' di recupero a questo video, io l'ho fatto comunque volentieri, farti questo video e rinnovarti ancora gli auguri, tanti auguri ancora, carissima, continua a seguirmi, e, mi raccomando, stai molto bene, la saluto prima di tutti, e poi tutto il resto viene da sé. Ok, carissimi, intanto vi saluto a tutti, vi ringrazio per la visione, e mi raccomando, volete in su, iscrivetevi e condividete. E vi do appuntamento al prossimo video, ciao, ciao a tutti! Ciao a tutti!